Nooo, non ci credo, non può essere così Nooo Ciao a tutti ragazzi, siamo Raffy e Molly E bentornati in un nuovo video di Just Draw Che probabilmente sarà l'ultimo Perché noi non sappiamo quanti livelli ci saranno Però ci hanno detto che potrebbe finire presto Quindi siamo stati bravissimi però E siamo già al 107, quindi voi lasciate un mi piace, mi raccomando Allora E iscrivetevi se non siete iscritti Giusto, cominciamo Abbiamo un bruchino Un bruco E una frezza succhia Lo so, perché il bruco diventa farfalla Hai ragione, allora la faccio io Guarda, se non mi muovi la sedia io riesco a disegnare Io riesco a disegnare se non mi muovi la sedia di continuo Su, muoviti, io farei tante storie Quello sarebbe una farfalla Un attimo, guarda Ok, bellina, sì Eh sì, non va bene questa Porca miseria Non va bene la farfalla Sì, viene Leonardo da Vinci La gioconda, no, non va bene Vabbè, se ti prende quello io me ne vado Certo Certo, perché la farfalla gli hai fatto un coso No, il bruco si è scelto No, sì, però non è giusto Non è giustissimo Adesso, visto che non è nato, posso andare avanti, vero? Dai Cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è Lo so, cerca le montagne perché non vede niente È un alpinista Le montagne No Sì, sono le montagne Perché le devo fare meglio Aspetta, eh Wow Le montagne Provo io Lo so È una tenda da campeggio No Ah, se quella è una tenda Allora, lui sta guardando in giro Forse una pecora Come una pecora? Secondo me è una pecora, dai Sta guardando in giro Secondo me no Proviamo meglio Una bella pecora Quella sarebbe una pecora? Vediamo No Secondo me cerca una montagna Fai una montagna gigante Una nuvola Una nuvola Ma le nuvole ci sono già Un'alpe Un'alpe Una sola Eeeh Toccavo Cioè lui mi ha fatto una Io mi ho fatto tre Non pari Ci ampari come la farfalla di prima Allora Tocca di nuovo a me perché sono il più bravo Va bene No Cosa gli manca? La neve La cravatta La cravatta Guarda non ha la cravatta No era Bella quella cravatta La cravatta La cocuagliolo Che si mettono i bimbi Per non sborcarsi Il papillon Bla 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 Il papillon No Secondo me non è Si è il papillon Mancera il velo alla sposa Si Yeah Yeah Oh era un papillon Si Bravo Merito un bacino Un bacino mi merito Ok l'ultimo a me poi tocca a te No tocca già a me Vabbè dai Questa è facile Oh guarda il dito Guarda il dito è la nuova penna Una bella racchetta Un po' spilecca La faccio meglio Guarda una bella racchetta qua Così Dai così ci sta Dai porga miseria Ma che cavolo vuole Il dito è troppo bello Ah è vero Sì adesso le racchette brutte Lai vanno Eh chissà perché le racchette brutte Sembra una griglia Per il barbecue ragazzi Oh deve andare in bagno Mi scappa la pipì Ecco mettiamo un bel vaterino Non si credo non può essere così No Oh no No ma anche lui Ma cosa manceva Oh lo so Lo so io perché prima ha fatto la pipì Lo so io Dovrò fare la cacchina No dammi Questa la sanno solo i veri pro Cioè Un idrante Un idrante I cani lo fanno nell'idrante Quanto ne so L'idrante L'idrante è per tener l'acqua Vabbè dai Ma non si chiama idrante La fontanella L'idrante Guarda il cane come fa la pipì Continuiamo Il francese La torre Eiffel No 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 Secondo me il francese Non beve quella cosa lì Il francese No no Ci vuole la torre Eiffel Perché a lui gli manca Gli manca la Francia Guarda Ma se quella è la torre Eiffel Io sono una principessa La torre Eiffel Dai Ma non hai mai visto la torre Eiffel Dobbiamo subito andare in Francia Eh io e te È così Ecco qua la torre Eiffel Wow Oh vai vai ok Eh te lo dico io Brava Raby dai 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 Ok basta basta Ecco Sì Eh però l'idrante l'ho data io Eh però io l'ho disegnata La mente Metà e metà Va bene Tocca di nuovo a me però Dai oh Cos'è È tutto buio Una luce Luce Ma secondo me una lampadina No il ladro Il ladro c'era un ladro Non tocco il ladro No bellissimo questo Si sta Abbiamo finito Zastro Abbiamo finito Zastro No Ok si arrivava Adesso cosa giochiamo Si arrivava al 114 114 Mamma mia ragazzi Quanti livelli che abbiamo fatto Siamo stati bravi però Siamo stati bravi Ci potremmo mettere due lampadine Ma ti ricordi quando abbiamo incominciato da questo? Infatti Dal pesciolino Infatti Era facilissimo Era facilissimo Allora io direi una cosa Ragazzi mi raccomando adesso qua sotto Nei commentini dovete assolutamente scriverci che altro gioco possiamo fare Perché noi ce l'avamo innamorati di Zastro Adesso non sappiamo più che gioco fare Quindi mi raccomando Consigliateci nei commentini dei giochi bellissimi come questo Se ne sono tanti Quindi scrivete Allora dovete scrivere qua sotto che gioco dobbiamo fare Dovete ovviamente lasciare un mi piace E di iscrivervi se non vi siete iscritti Esatto dovete scrivere nei commentini E di iscrivervi al canale Ne facciamo una casa adesso Vediamo Vai 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 Questo Con l'occhio Ma adesso siamo espertissimi Ma adesso li sappiamo tutti Questo era Batman questo Non me lo ricordo Hanno ucciso Batman Facciamo una cosa Cosa? Potremmo fare una sfida al prossimo video Se li riusciamo Visto che li abbiamo già fatti E sappiamo cosa sono Vediamo se li riusciamo a fare tutti al primo tentativo Sisto Li fai te fino a quando non sbagli E poi li faccio io fino a quando non sbagli E poi chi sbaglia penitenza chi perde Ok? E questo però non l'avevamo detto eh Ragazzi noi vi salutiamo E ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.